Buongiorno da Edo, che è anche divulgazione, e quindi oggi parliamo di JavaScript Engine e JavaScript Runtime. Perché? Perché ho appena letto un blog post sul blog ufficiale di React Native che annuncia che dalla prossima versione 0.70 il JavaScript Engine di default in React Native sarà Hermes. Sapete che React Native è un framework per scrivere applicazioni mobile in JavaScript, quindi ha bisogno di un interprete che trasformi le istruzioni JavaScript in istruzioni per il device nativo. Quindi l'Engine fa questo. Siamo già entrati nella divulgazione, Engine vs Runtime. Poi perché voglio fare Engine vs Runtime? Perché da quando è uscito BUN la settimana scorsa, ne abbiamo un attimo parlato, nuovo, rivoluzionario, incredibile, Runtime JavaScript, super veloce, super performante, c'era un po' di confusione tra Engine, Runtime, Compilatore, che roba è, perché è più veloce. Allora, un attimo di ordine, facciamo, dipaniamo un po' questa matassa. L'Engine è il software che va a interpretare riga per riga il codice JavaScript e lo trasforma in un linguaggio macchina, leggibile e interpretabile da una macchina. Lasciate stare che poi questa macchina potrebbe essere anche un altro software, ma lasciamo perdere. Per semplificare, l'interprete fa questo, il JavaScript Engine fa questo, legge le righe, le trasforma in un linguaggio macchina, poi gestisce la memoria, gestisce i cicli di esecuzione. Comunque, spero che si sia capito che l'Engine fa esattamente questo compito. Che cosa è invece il Runtime? Il Runtime è quello che sta attorno all'Engine, è quello che permette all'Engine di comunicare con un ambiente esterno. Ne abbiamo due fondamentali, il browser e il server. Nel browser abbiamo le API per gestire il DOM, HTML, le chiamate HTTP, Fetch. Sul server abbiamo il file system, dobbiamo comunicare con il file system, dobbiamo leggere i file, scrivere i file. Abbiamo buffer, abbiamo stream, abbiamo API per la criptografia. Questo genere di cose, ok? Quindi, browser e server. Il Runtime fornisce delle API per comunicare con questi due ambienti. Un esempio molto contenuto, molto facile. Il log, il print, diciamo. Che cos'è il print in JavaScript alla base? È il console log. Console log su browser scrive con le sue API sulla console del browser. Invece, su node, sul server, scrive in terminale. Quindi abbiamo la stessa istruzione, però comunica con due API diverse che fanno cose diverse. E tra l'altro è proprio da qui che era partito Jared Sumner con... L'aveva detto in un'intervista con la creazione di BAN. Aveva visto quanto era più efficiente, quanto era più veloce il print in console fatto in Objective-C da Apple rispetto alla stessa cosa di V8. E quindi si era messo a fare delle ottimizzazioni di questo tipo, da cui poi aveva esteso, aveva espanso fino ad arrivare alla creazione non solo di un Runtime, ma anche di un Bundler e di un Transpiler che sono poi tutti i componenti che oggi compongono BAN. Quindi spero di avere un minimo spiegato la differenza tra Engine e Runtime. Magari domani potrete condividere questa nuova conoscenza con i vostri parenti al pranzo della domenica. Ciao. Grazie a tutti.